Antonio Castello è consigliere della città metropolitana di Torino ma è soprattutto il sindaco di Pianezza. Un binomio città di Pianezza e città metropolitana di Torino all'insegna del Palio, quindi tradizione, storia e cultura. Tradizione, storia e cultura che tendono a crescere grazie alla città metropolitana e grazie all'aiuto che ci avete dato per promuovere quella che è la nostra principale manifestazione, una manifestazione che è arrivata al 37esimo anno e che aveva bisogno di essere rinvigorita, di essere conosciuta e di essere presentata meglio. Devo dire che grazie alla vostra disponibilità e anche alla sua presenza dottoressa che si è data tanto da fare, come sempre abbiamo avuto questo momento importante per noi, ci sarà questa mostra che rimarrà nel nostro palazzo per altre due settimane e che sarà motivo anche di visita di tanti torinesi in modo da poterla conoscere e far conoscere anche la nostra Pianezza.